Ben ritrovati in un appuntamento con l'informazione del telegiornale TV City, in apertura l'emergenza sanitaria con la campagna che fra una settimana rientrerà in zona bianca. Gli è il coprifuoco, ma restano le mascherine. Passiamo ora alla cronaca con il maxisequestro della Guardia di Finanza nei confronti di un noto contrabbandiere di sigarette, 2 milioni di euro fra immobili e contanti. Paura invece fra Torel Greco e Ercolano, dove un'auto ha preso fuoco sopra il Vesuvio. Passiamo ora all'intervista all'assessore Polichetti, PUC pronto per Torel Greco, ma si aspettano le proposte delle associazioni. E invece iniziano i lavori, in conclusione, a Via Falanga e in Via Litoranea. Si cerca però di non arrecare troppi disagi ai commercianti. Questo ed altro nei nostri servizi. Da oggi 40,5 milioni di italiani saranno in zona bianca. Di fatto due cittadini su tre vivranno in regioni dove le restrizioni sono ridotte al minimo. Smettono infatti di applicarsi le misure che regolano tutte le attività nelle altre zone, compreso il coprifuoco che nel resto Italia sparirà il 21 giugno. È sempre il 21 giugno che anche la Campania rientrerà nella tanto attesa zona bianca, insieme a tutte le regioni rimaste in giallo. In attesa il lunedì prossimo, quindi, ricordiamo le disposizioni dettate per quanto riguarda le minori restrizioni. In vigore dal 21 giugno resteranno sostanzialmente l'obbligo del distanziamento di almeno un metro, l'utilizzo della mascherina, l'igienizzazione delle mani e il divieto di assembramento, sia all'aperto che al chiuso. Dal DPCM del 2 marzo, che ha introdotto la zona bianca, sono però state approvate una serie di regole che valgono anche nelle regioni che si trovano in questa fascia. Nelle zone bianche è consentito organizzare feste private successive a cerimonie religiose o civili, dunque matrimoni, cresime, comunioni, battesimi, ma anche compleanni, feste di lauree e anniversari. Per parteciparvi, però, esattamente come avverrà in zona gialla da martedì 15 giugno, bisognerà avere una delle tre certificazioni verdi previste dai decreti attualmente in vigore. Certificato di vaccinazione, che vale nove mesi a partire dal completamento dell'intero ciclo, dunque anche con la seconda dose, oppure dal quindicesimo giorno dopo la prima dose fino alla somministrazione della seconda. Certificato di guarigione, che ha validità di sei mesi, tampone negativo effettuato nelle 48 ore precedenti la partecipazione all'evento. Nel DPCM, che dovrà essere approvato nei prossimi giorni, è previsto che la verifica delle certificazioni spetta ai soggetti che erogano i servizi per fruire, dei quali è prescritto il possesso di certificazione verde e gli organizzatori di eventi ed attività per partecipare ai quali è prescritto il possesso della medesima certificazione, nonché i pubblici ufficiali. Dopo un confronto tra Regione e Governo, è stato stabilito, con un'ordinanza firmata dal Ministro della Salute Roberto Speranza il 4 giugno scorso, che fino al 21 giugno in zona bianca il consumo al tavolo negli spazi al chiuso è consentito per le attività dei servizi di ristorazione per un massimo di 6 persone per tavolo, salvo che siano tutti conviventi. Il DPCM del 2 marzo, che definisce le misure per la zona bianca, afferma che restano sospese le attività che abbiano luogo in sale da ballo, discoteche e locali assimilati all'aperto e al chiuso. Di fatto, dunque, le discoteche potranno aprire, ma solo per le attività di ristorazione e somministrazione, mentre resta vietato ballare in pista. Il nucleo di polizia economico-finanziaria della Guardia di Finanza di Napoli ha proceduto su disposizione della sezione misure di prevenzione del Tribunale di Napoli a sequestro, tra Marano di Napoli e Sanremo, di un ingente patrimonio del valore di oltre 2 milioni di euro riconducibile ad uno storico contrabbandiere di sigarette. Le fiamme gialle hanno acquisito al patrimonio dello Stato tre immobili, oltre a beni mobili di lusso e disponibilità finanziare, riconnucibili al napoletano Caffiero Rocco, detto O. Capriariello, condannato nel 1987 dalla Corte di Appello di Bologna per contrabbando di tabacchi lavorati esteri, nel 1988 dalla Corte di Appello di Palermo per associazione per delinquere e per associazione finalizzata al traffico di sostanti stupefacenti e nel 1993 dal Tribunale di Roma per contrabbando. Il provvedimento ablativo è stato messo a seguito della sentenza di condanna per associazione per delinquere finalizzata al contrabbando di sigarette a carico del proposto e scaturisce degli accertamenti economico-patrimoniali effettuati dagli specialisti delle fiamme gialle partenopee. Infatti il monitoraggio effettuato dal GICO di Napoli ai sensi del codice antimafia ha fatto emergere, grazie agli scontri sviluppati anche attraverso l'utilizzo delle banche dati in uso al corpo, una marcata sproporzione tra le fonti di reddito lecite di cui il soggetto disponeva ufficialmente e il patrimonio di beni immobili e immobili di rilevante valore negli anni accumulato. Auto in fiamme sul Vesuvio. L'incendio è divampato ieri sera in via Contrada-Monte d'Oro, al confine tra Ercolano e Torre del Greco. Il veicolo ha preso fuoco fuori a un agriturismo, ma non sono chiare le cause, forse un malfunzionamento. Il fumo è arrivato fino alle case circostanti. Fortunatamente l'intervento tempestivo dei vigili del fuoco, allertati proprio dai residenti, ha impedito che le fiamme arrivassero ad espandersi. L'incendio è infatti divampato in una strada stretta a corsia singola e circondata da arbusti ed erbacce. Il rischio era proprio che il fuoco riuscisse ad attecchire su questi tratti di verde, arrivando fino alle case e alle strutture. Tanta paura, quindi, ma nessun ferito. È il terzo caso di automobili incendiate nella nostra area nel giro di un mese. Ricordiamo che una vettura era andata a fuoco all'imbocco del casello autostradale di Torre del Greco ed un'altra mentre era parcheggiata in zona viali. In tutti i casi le fiamme hanno completamente distrutto il veicolo, minacciando l'intera area circostante. Negli studi di TV City, l'assessore all'urbanistica del comune di Torre del Greco, quali sono gli interventi che il suo assessorato sta portando avanti? Si tratta di dare continuità quando già abbiamo più volte detto anche attraverso i canali televisivi di TV City. Non ultimo, quella dell'altra settimana dove appunto nel presentare il PUC, il piano urbanistico comunale, diciamo attraverso il redattore del PUC, l'architetto Riviero, quelle che erano le cose più salienti che il PUC stesso porterà quando avrà completato il Twitter burocratico. Siamo a pochi giorni dalla scadenza dei termini per la presentazione delle osservazioni che sicuramente rappresentano un momento importante perché significa ricevere il contributo dei cittadini su quelle che possono essere le indicazioni che in qualche modo vengono condivise oppure magari vengono integrate perché non corrispondenti a quelle che sono le aspettative di sviluppo del territorio. Ogni cittadino, ogni associazione può dare indicazioni e chiedere che ci siano delle modifiche a quelle che è il PUC che è stato predisposto, verranno esaminate dal progettista subito dopo la scadenza dei termini che dovrebbe essere appunto l'inizio settimana il 15 e dopodiché le stesse osservazioni verranno fatte proprie dal progettista o meno e portate come italia all'aggiunta comunale e quindi con tutto quello che ne consegue con l'approvazione finale che dovrebbe avvenire il 31 dicembre prossimo con un parere definitivo non solo del Consiglio Comunale ma anche degli altri organi competenti. Quindi è un percorso condiviso? Certamente sì, è un po' diverso da quello, l'ho detto in diverse occasioni, è un po' diverso da quando avveniva negli anni, nei decenni passati laddove i piani urbanistici venivano fatti a tavolino, venivano in qualche modo imposti a chi abita e a chi vive il territorio senza la partecipazione attiva dei cittadini. Oggi per fortuna ci sono degli strumenti diversi dal passato, c'è maggiore partecipazione e c'è quindi anche una maggiore condivisione di quello che succederà. Questo significa poter attuare al meglio quelle che sono le previsioni e speriamo che possa portare in maniera più diretta e nei tempi più contenuti delle modifiche che siano ben accolte dalla cittadinanza. Cosa rappresenta per il territorio, il piano urbanistico comunale, questo strumento? Rappresenta sicuramente un momento di riqualificazione di quelli che sono gli spazi urbani. Diciamo il territorio del territorio, tra l'altro è molto esteso e ha anche caratteristiche diverse dalla parte nord, quella a confine con il Colano, alla parte sud, quella a confine con Torre Denunziata. Quindi ci sono delle differenze sostanziali nei diversi spazi delle città che in qualche modo attraverso il piano si cerca di migliorare affinché non ci siano squilibri tra una parte e un'altra della città, tra la parte collinare pedemontana e quella a bordo del mare e quindi cercando di fare in modo che il territorio possa avere una maggiore qualità e vivibilità in tutti i suoi ambiti. Partono i lavori in via Falanga, storica piazzetta alle spalle di Piazza Santa Croce e in Litoranea. Ad annunciarlo l'assessore ai lavori pubblici Felice Gaglione. È stata avviata, è stata fatta la progettazione, è stata messa in gara, è stata sfidata la gara e a giorni partiranno i lavori. Considerando che è un tema un pochettino particolare quello della piazzetta perché coinvolge tante attività e quindi una grossa movimentazione di persone, di utenza, quindi di cittadini che avranno un pochettino di disagio. In queste ore l'amministrazione si sta confrontando con i numerosi commercianti di via Falanga per trovare le soluzioni migliori per non danneggiare le attività economiche con cantieri e lavori. Ciò che preme maggiormente è garantire tempi celeri in modo da ridurre i disservizi inevitabili al periodo estivo. Quanto tempo dovrebbero durare questi lavori? Allora, i lavori dovrebbero durare circa 5 mesi, però questo è il termine massimo che si è presa l'amministrazione, ma non dureranno mai 5 mesi. Di solito su ogni appalto si mette un termine massimo. L'architetto D'Angelo stamattina, ci siamo incontrati, abbiamo ragionato su questo, mi ha detto che il massimo per le fine estate saranno finiti. Grazie per la cortese attenzione. Per info e segnalazioni potete contattarci alla mail redazione chiocciolatvcity.it o al numero di telefono 340 65 61 484. E con questo è veramente tutto e vi do l'appuntamento a domani con altri servizi. Grazie per la visione!